Io so quello che dico nei Fuggiano. Dico quello che faccio la musica napoletana, è certamente che da noi, non parlo più Fuggiano, non sa perché ha chissà da rivolgere, non conosce più niente, non è venuto più a vedere. Allora non è così, come vedete mi ricordo delle origini e me ne ricordo benissimo, anzi ogni tanto parlo in Fuggiano con i miei conterrani in tutto il mondo, ha incontrato uno in Australia che mi ha fatto così. Evidentemente c'è un linguaggio comune, naturalmente con Geggette Lestro e con tutti gli altri amici si parla purissimo Fuggiano, però io sono ancora più puro di voi perché io parlo utterrazione, utterrazione propria, capite, quelle di Croci, Ucrucese. Allora, l'operazione Galluccio. L'operazione Galluccio è quella di venire a festeggiare con noi il Galluccio a Foggia che è una tradizione il 15 agosto. Come? Domanda, punto interrogativo. Come ve lo dico io. Venendo a Foggia perché verso le 20 e 30, minuto più, minuto meno, scatta il concerto del Renzo Arborell'Orchestra Italiana, un concerto epico, storico, una riconciliazione meravigliosa con la città, con tutti i suoi abitanti, non soltanto i Foggiani ma naturalmente anche quelli di... Oh, vi aspettavate che io elencavo tutti i comuni e cominciando da Manfredoni, Sanzoere, Lucere e poi via via, andando fino a Eschitelle, Peschici, Mattinata, e vabbè, Monte Sant'Angelo. Non lo posso fare perché altrimenti gli altri si arrabbiano. Dici, ma come? E non è tutto quanto? E non è niente da Pietra Montecrovina, a Faedo. No, invece si nominano. Allora, vi aspetto dal Gargano, da Sipondo, da Manfredonia, da Mattinata, via via, andando là verso e da Peschici, vieste, via. Vi aspetto il 15 agosto perché il 15 agosto scatta l'Operazione Galluccio. Consiste in una libagione abbondante che farete voi a spese vostre e poi un concerto invece gratuito, quindi a spese mie soprattutto, al Pronao della Villa Comunale per festeggiare l'Operazione Galluccio e per ricordare l'orchestra italiana che 20 anni prima ha fatto un bellissimo concerto proprio al Pronao della Villa Comunale. Non mi facete far brutto frutto, venite tutto quanto a vedere perché poi il concerto, vi prometto, è certamente emozionante, divertente e perché no, anche con un tantino di foggianità. Ciao a tutti.